Siamo contenti di questa visita perché ci portano alla solidarietà di persone che hanno già vissuto le nostre problematiche e che sono impegnati nel sociale. Noi dobbiamo ancora ricostruire il tessuto sociale di questa nostra comunità e ci auguriamo che nei prossimi mesi ci aiuterete a poter ricostruire il nostro tessuto sociale con particolare attenzione e diversamente abili che in questa storia hanno avuto più problemi dei cosiddetti abili. Quindi mi auguro che la vostra esperienza possa servirci per ricostruire una città migliore ma più vivibile anche per coloro che vivibile non l'hanno mai vista perché c'erano troppe barriere architettoniche. Grazie. Il motivo di questo incontro è trovare e vedere altre esperienze in una regione e in una città che ha avuto grossi problemi con questo sisma. Noi abbiamo portato la nostra solidarietà, abbiamo portato alcune cose di regalo ma ci impegniamo a fare un gemellaggio per poter condividere, per poter costruire un qualcosa di nuovo e di importante per noi e per loro. Siamo qua con la cooperativa solidarietà di Treviso, ci sono venuti a trovare, ci hanno portato dei doni bellissimi, 40 quadri dipinti da artisti trevigiani per allietare le case del progetto case di Berlusconi e noi siamo immensamente contenti di questa visita che loro ci hanno fatto speriamo di contraccambiarla in un futuro immediato per vedere anche i loro metodi di approccio per quanto riguarda la solidarietà alle persone disabili e un bocca al lupo e un ringraziamento ancora alla cooperativa solidarietà di Treviso che è stata così gentile a venirci a trovare. Una domanda sul sogno della fondazione? La fondazione con noi è dopo di noi, è una fondazione che sta per essere realizzata al Comune dell'Aquila, per noi è una chimera, ci stiamo dietro da oltre cinque anni. Pari siamo arrivati alle battute finali, il Comune ci sta per donare un terreno del valore di circa un meno di euro, la provincia ci dà un piccolo contributo, anche la regione, tutte le associazioni di disabili dell'Aquila vi partecipano, siamo arrivati agli ultimi cavilli burocratici. Speriamo che questo terremoto porti anche un terremoto dentro la burocrazia e si possa riuscire a cavare il ragno dal buco e finalmente riuscire a costituirla. Grazie